Questa mattina spazio alle vostre domande, ai vostri messaggi. Risponderà, è pronto, beh, il medico di famiglia più famoso della TV, il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno, grazie, ben trovato, buongiorno ai nostri spettatori. Allora, prima di iniziare con la prima lettera, però vi ricordo come fare ad entrare in contatto con noi. Lo vedete, il numero di telefono in sovraimpressione è 0666508937, il nostro contatto mail, il mio medico chiocciolatv2000.it e poi vi ricordo i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Allora, subito iniziamo, dottor Gargiulo, dalla prima lettera di Massimo, che ci scrive da Montelupo e dice sono circa due settimane che è un raffreddore che non passa, ho provato di tutto, dalle aspirine ai rimedi naturali, ma quella sensazione di naso otturato ancora non passa. Cosa possiamo consigliare? Intanto diciamo che se sono due settimane, probabilmente è un raffreddore allergico, non è il raffreddore classico invernale. Per il raffreddore invernale dura tre giorni, quattro giorni al massimo e poi va via. Questo potrebbe essere legato a un'allergia verso qualche sostanza, qualche prodotto, anche eventualmente un'allergia alimentare, qualche volta lo può fare, qualche alimento può creare queste problematiche. E allora io direi, intanto un rimedio sintomatico, quindi proviamo a utilizzare delle gocce nasali che servono per dilatare, per rendere più facile la respirazione, soprattutto la sera per la notte, eventualmente provare con un antistaminico. Una compressa di antistaminico può già darci un'idea, se l'antistaminico funziona, è molto probabile che sia allergico. Allora, però a questo punto, se il dubbio ci viene, che potrebbe essere un'allergia, quali sono le analisi che possiamo consigliare a Massimo? Esatto, bravissima. Ci sono delle analisi che servono proprio a vedere, l'emocromo è una di queste e le IgE totali sono un altro esame, servono a vedere se abbiamo aumentata o con le IgE quella proteina che aumenta durante le allergie o con l'emocromo se c'è un aumento di una farzione dei globuli bianchi, gli eosinofili, che potrebbe far sospettare un'allergia verso alcune sostanze. Se questi sono positivi, allora a quel punto bisogna ricorrere a uno specialista. Il medico di famiglia si deve fermare e affidare allo specialista, all'allergologo, che poi stabilirà, in base ad un'anamnesi accurata, quindi parlando prima col paziente, quali sono gli esami specifici per capire qual è l'allergene. L'antistaminico, abbiamo detto, va bene in ogni caso, ed è un sintomatico in questo momento, ricordiamo solo una cosa, non assumete antistaminici se dovete guidare, se dovete fare delle attività impegnative, se avete un'attività lavorativa che mette a rischio l'incolumità delle altre persone, perché l'antistaminico, anche i più moderni, dà sonnolenza. Tante persone, noi italiani, c'è stato anche un allarme nell'Organizzazione Mondiale della Sanità in genere, insomma, quando ci sentiamo un po' così, dopo due settimane, la prima cosa che facciamo è prendere l'antibiotico, che ci ha avanzato magari da una bronchite. In questo caso l'antibiotico non deve essere preso? Assolutamente no, l'antibiotico avanzato è un doppio errore, perché se è avanzato vuol dire che non abbiamo concluso la terapia precedente, e se è avanzato e assumiamo una compressa, se non è indicato dal medico, quindi se il medico non ha visitato, o sulla base della sua esperienza è indicato un antibiotico, non assumete antibiotici e non somministrateli soprattutto ai bambini. niente antibiotici, perché gli antibiotici vanno mirati verso le infezioni batteriche. Però magari, insomma, se servono, poi non funzionano più. Brava, perché abbiamo un sacco di problemi dal punto di vista delle resistenze. Allora, passiamo ad un'altra domanda che ci è arrivata a Via Melda Marina. Allora, ogni volta che finisce un pasto, sia dopo pranzo sia dopo cena, ha una sensazione fastidiosa di gonfiore addominale. si è rivolta, eccolo qua, su internet, insomma, andata a cercare su internet, ha detto che potrebbe essere un problema di intolleranza al glutine. Immagino, insomma, abbia comprato anche tanti prodotti senza glutine, ma fortunatamente, insomma, ci ha scritto per chiedere un consiglio. Allora, dottore, a cosa può essere dovuto questo gonfiore addominale dopo i pasti? Diciamo che questa ricerca che ha fatto su internet probabilmente ne ha dato un consiglio giusto, perché spesso sono non una vera malattia celiaca, cioè quella incapacità totale, questa resistenza totale verso il glutine, intolleranza totale, ma queste intolleranze parziali legate alla quantità di glutine che assumiamo. Quindi assumendo molto glutine si può avere questo disturbo che diceva lei. E allora, provare una dieta povera o priva addirittura di glutine non è un errore, va benissimo. Facciamo questo esperimento per 7, 10, anche 15 giorni e vediamo il risultato. Se il gonfiore sparisce, allora a quel punto abbiamo fatto la diagnosi, è inutile fare tante ricerche. Tanto il risultato finale sarà sempre e comunque una dieta povera di glutine o priva di glutine. Quindi possiamo procedere in quel senso. Ci sono delle analisi però specifiche per capire se siamo davvero intolleranti al glutine. Certo, lì per capire se questa intolleranza è un'intolleranza importante, ci sono intanto degli esami del sangue che servono a vedere e a testare l'antigliadina, bisogna andare a cercare con questi esami specifici se c'è una positività. Una volta accertata la positività bisogna fare un esame un po' più fastidioso che è una gastroscopia con un prelevo bioptico nel duodeno per capire se i villi intestinali, che sono quelli che risentono del glutine come veleno vero e proprio, se questi villi sono molto ridotti. Perché allora lì siamo di fronte ad una malattia celiaca che va affrontata in modo completamente diverso. Può comparire anche improvvisamente in età adulta? Può succedere effettivamente, diciamo che sono sempre queste forme blande, non la vera celiachia, sono queste forme blande che al passare degli anni mano a mano diminuiscono i villi, li distruggono piano piano, danneggiano un po' questo intestino e si manifestano in età adulta. Ecco, ricordiamoci ancora una cosa, noi siamo legati al concetto che le intolleranze alimentari si manifestano nei soggetti magri, quindi danno una magrezza. Non è vero, non sempre, le intolleranze alimentari possono anche essere presenti nei soggetti per normo peso o sovrapeso. Una cosa importante da ricordare, c'è una teoria che dice che si ingrassa per le intolleranze, assolutamente no, non si ingrassa per le intolleranze. È una leggenda metropolitana. Si pensa, sono intollerante al formaggio per questo non riesco a perdere i chili. No, diciamo che è un'ottima scusa per mangiare. Allora, dottor Gargiulo, però un'intolleranza può essere temporanea, può scomparire oppure no? Che io sappia no e credo che non sia descritta in letteratura. In realtà cosa succede? Che se noi capiamo di essere intolleranti riduciamo l'assunzione di quel prodotto e automaticamente migliora la condizione. Non è un'intolleranza totale, è un'intolleranza parziale legata anche alla stessa intolleranza lattosio. Succede spesso di vedere che migliora perché magari riduciamo il latte della mattina oppure non mangiamo i formaggi. Magari si acuisce in alcuni periodi dell'anno. Sì, può essere legata a un momento, però è comunque sempre legata alla dieta. Allora, passiamo un'altra lettera. Insomma, ci arriva da Walter, ha 72 anni, ha iniziato a soffrire di una brutta otite, qualche mese fa si è curato. Ma ora purtroppo non ci sente più come una volta, l'età c'è purtroppo. Allora, cosa potrebbe fare? Allora, l'otite sicuramente è un problema che lui ha curato, avrà trattato anche con lo specialista, con gli antibiotici, quindi avrà risolto. E può dare, l'otite può dare una riduzione, una diminuzione dell'udito se ha avuto un danno sul timpano, perché è lì che si va ad appoggiare l'infezione e quindi magari una perforazione timpanica può essere successo. In realtà, a 72 anni bisogna valutar bene, perché potrebbe essere anche una presbiacusia. L'otite è stato il momento scatenante, ma non è quello. Presbiacusia è una riduzione progressiva dell'udito, così come la presbiopia è una riduzione progressiva della vista, che si manifesta col passare degli anni. Allora, cosa dobbiamo consigliare? Sicuramente, passato ormai un tempo sufficiente dall'otite, un esame audiometrico, impedenzometrico, quindi un controllo di nuovo dallo specialista, per capire se c'è un'ipoacusia trasmissiva, un'ipoacusia legata al nervo, insomma, orientarsi su questa ipoacusia. E a quel punto cercare di capire che cosa si può fare. Un po' di diminuzione dell'udito, ahimè, va a sopportare. Magari una visita sicuramente dall'udito all'onguiata, che magari controlli, cioè un'analisi clinica, no? Sicuramente controllare all'interno, ad esempio, un'altra cosa potrebbe essere anche un tappo di cerume, un banalissimo tappo di cerume che viene rimosso e a quel punto migliora la condizione dell'udito. Grazie al dottor Carlo Gargiulo. Grazie a voi, a presto.